vuoi partecipare all'evento di trasporto più importante dell'anno segnati questa data 30 ottobre 2015 w connecta è un evento rivoluzionario diretto ai professionisti del trasporto di merci su gomma in europa il suo obiettivo è quello di aiutarti a trovare collaboratori di fiducia e nuove possibilità di business come facciamo speed networking grazie a incontri rapidi ogni partecipante dispone di colloqui con altri professionisti della durata di 7 minuti questi incontri sono pensati per fare un primo contatto con possibili partners scambiare biglietti da visita parlare di sinergie o stabilire le basi di futuri accordi networking cargo area è uno spazio abilitato in cui le aziende che dispongono di carichi potranno concordare riunioni private previamente programmate con professionisti interessati a collaborare con loro coffee area tutti i partecipanti potranno accedere a uno spazio permanente di caffetteria per incontri informali potrà inoltre contare sull'appoggio dello staff di w transnet che ti accompagnerà prima e durante l'evento per aiutarti a ottenere il massimo risultato ampia la tua rete di contatti in poche ore più di 500 professionisti del settore ti stanno aspettando non perdere questa occasione iscriviti subito